Vuoi parlare del Napoli? No, ma Coulibaly è un simbolo del Napoli e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Coulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. A voi vi risulta che io abbia obbligato mai nessuno pur avendo anni di costratti in più quando voleva andare via, di restare. No, mai. L'unico forse che ho obbligato sapete chi è? E che saluto perché è un caro amico, Mazzarri. Walter Mazzarri a un certo punto dopo due anni mi disse, Presidente io voglio andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui però, devo dire, molto opportunamente e rispettosamente nel contratto che aveva rimasto e devo dire che ci ha regalato anche quattro anni di soddisfazione. quando arrivò Simen le disse sarà un Napoli o Simeniano. Sarà un Napoli o Simeniano. Quando arrivò Vittorio. E ragazzi, ma Simen ci abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni consecutivi. Quindi resta. Non è che ha giocato tutte le partite del campionato quindi dare dei giudizi sul calciatore è sempre secondo me poco opportuno. Perché ogni campionato è diverso, perché ogni squadra si modifica nel corso della preparazione del campionato futuro. Quindi è sempre un'incognita. E poi, quello che poi dovete sempre mettere sul campo è anche il lato psicologico. Io sono sempre stato per l'idea che mi torni un psicologo o una psicologa, perché una donna fa sempre più piacere, no? per rogarlo e farsi interrogare, perché una donna fa sempre interrogare, ma in realtà l'ha interrogato. Ha! Non voglio dire. Però poi bisogna anche non mettere gli allenatori sui guai. E un psicologo o una psicologa può creare anche delle cose in un po' possibile. Creando una barriera di tutti i cimenti del calciatore stesso. che poi possono gozzare con quella che invece è l'idea di chi allieva. E quindi noi ci siamo sempre assegnuti nel rispetto della tenatore che è quello che ha la responsabilità della squadra quando la squadra vede il campo. Quindi resta Presidente. Andiamo al studio della squadra. E? Andiamo al studio della squadra. Andiamo al studio della squadra. E' un po' di nessuno. E' un po' di nessuno. E' un po' di nessuno. Grazie. E' il sindaco, è il sindaco che fa. Sindaco, viene un po' compiore, ci allarghiamo un po' sennò...